Sono molte le comunità devote al santo di origini tedesche San Gottardo, in città e in provincia, dal monte Maddalena alla Franciacorta, dalla valle fino alla bassa. Martedì mattina anche il vescovo Pierantonio Tremolada era a calcio, sul confine tra Brescia e Bergamo, per rendere omaggio al patrono di origini tedesche. A Paderno Franciacorta, a celebrare, c'era invece il vescovo emerito Luciano Monari. Un'altra comunità tra le più devote è quella trenzanese, dove ogni anno la processione richiama centinaia di persone. Lo scorso anno la processione chiedeva al santo la fine del virus. San Gottardo e il 4 maggio, anche da paesi distanti, venivano qui a venerarlo. L'auspicio espresso lo scorso anno di una rapida conclusione della pandemia è andato purtroppo deluso. Ci auguriamo di poter presto tornare alla normalità, ma credo che per molto tempo ci sarà sempre un ante ed un post-covid-19. A 365 giorni di distanza, la voglia di essere comunità non ha spento la fede e la speranza che la pandemia passi nei cuori dei devoti trenzanesi. In molti hanno infatti riempito gli spazi dell'oratorio di Via Castello, allestiti dai volontari con centinaia di posti a sedere all'aperto, come da norme antivirus. L'oratorio oggi è un po' la nostra chiesa, quindi per tutto il giorno potete venire a accompagnare anche le persone care, stato del santo e reliquio rimarranno qui in oratorio. La Santa Messa è stata celebrata da Don Giovanni Milesi, che ha ricordato la bellezza dell'essere comunità unita, nel luogo dell'eccellenza per la formazione giovanile. L'oratorio. Educare per amare, amare per educare. In questo luogo, ma che è fatto di persone e di relazioni, si possa coltivare un pochettino uno stile e delle relazioni un po' diverse. Io oserei dire, la butto lì, fraterne. Le celebrazioni, iniziate domenica 2, sono continuate fino alla sera del 5 maggio. Come da tradizione, appuntamento di chiusura della sagra dedicata a San Gottardo.